Il Serebiano è un po' di gruppo, è il robot di divisa, non divisi, è in fondo, il Cicolano, è quello che è più avvicinato, quello che ho, la tenda è il George Blue, è sempre George Blue, ha girato un passo il George Blue, è sempre rimancabile, ha presentato ogni anno. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti